De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Proseguono i criminali ride dell'Avelenatore di Cani, ritrovate tra Leone Mazzini e Parco Castagno altre polpette killer, e Schiafatali e quattro zappe che circolano nella zona del mirino del Balordo non solo i cani, ma probabilmente anche i proprietari. I residenti dei quartieri seminati da Esche si ribellano e hanno affisso anche dei manifestini per tenere alta l'attenzione sul pericolo. C'è qualcuno che non gli piace negli animali, c'è qualcuno che non gli piace negli animali e non gli piace. E allora non gli piace negli cani, non gli piace negli catti, però i topi ci sono. I topi ci sono in abbondanza. Anche non mancano i topi, sono topi di sfognatura proprio, non sono topi. Alcune polpette avvelenate sono state rinvenute proprio nei pressi delle giostrine dove stanno i bambini, quindi ancora peggio. Ancora peggio sì, è una cosa logica, ma che fa di male un cane del genere? Io penso che non fa niente di male a nessuno. Insomma talmente cinici che non risparmiano nemmeno le giostrine. No, non riparano anche i bambini, perché in questo modo un bambino piccolino di due anni prende una cosa di quella in bocca, che succede? Dovemmo rispondere dopo. Certo è un peccato, se non lei non riesce proprio a immaginare che possa essere. No, non riesco, perché si riesca a trovare. La gente che lo fa, io lo metto con la testa sopra, guarda, io lo faccio. Io sono una che, le cose le faccio. Perché lei adesso deve tenere comunque sempre legata al guinzaglio. Sempre con guinzaglio, perché non lo posso lasciare libero, perché ho paura, sin cosa mai che sono le porpettine avvelenate, ho qualcosa buttato giù, avvelenato, perché questa già me l'hanno cercato di avvelenare una volta. Come si chiama? Il marco di castagno, Lea. Quindi Lea è salvata? Io sono stato avvelenato una volta, sono stato salvato una volta. Perché me ne sono accorta che esceva la schiuma da bocca. L'ho portata dal vetrinato al limone e lui mi ha detto, signora, l'hanno tentata di avvelenarla. È possibile? È possibile?